Spesso sento dire ai milanisti due pesi e due misure quando si parla dell'Inter tutto rose e fiori, quando si parla del Milan invece lì sono lì a piantare martellate su martellate, quando il Milan è stato escusso sembrava che ormai il Milan doveva ritirare le bandiere, Serie B di nuovo, tutto quello che volete. Mentre adesso che l'Inter è escusso addirittura è pure meglio perché Oc3, continuità aziendale, Marotta sarà ancora più impegnato, insomma leggiamo di tutto e in effetti con l'Inter c'è una certa... non è il fatto dell'Inter, è che noi interisti siamo un po' diversi dai milanisti, lo dico con affetto, tra tutte e due le parti. Il Milan è abituato e era abituato a vincere pesante, vincere cinque Champions League, avere Maldini, Baresi, Tassotti, ancora me la ricordo io quella formazione, che sono interista, c'era Sebastiano Rossi e quel Milan lì ovviamente nel Milan di Berlusconi che era entrato nella scena europea, aveva preso tanti tanti trofei, quel Milan lì è parte forse irripetibile. L'Inter, questo Inter così, non l'ha vissuta, ce n'è voluto per vincere una Champions, l'abbiamo vinta col triplete ma ce n'è voluto, ce n'è voluto le situazioni, siamo passati attraverso anche i momenti bui della storia del calcio italiano, avevamo il giocatore più forte Ronaldo, non si riusciva a vincere, non si capiva il perché. Beh, gli interisti ne sono passati, sono passati sotto ponti abbastanza bui, ecco perché siamo meno, siamo più pronti del Milanista, il Milanista davanti a un benescusso secondo me, secondo me lo dico e ripeto con affetto, si trova un po', vorrebbe quel Milan lì. Il Milanista ha per riferimento quel Milan lì, quindi dice, ah sai, mi piacerebbe avere di nuovo quel Milan che compra i tre olandesi, che fa, l'interista non tanto. L'interista ultimamente sta vincendo, sta vincendo con piacere, si dice, ah piena di debiti, piena di questo, piena di quello, ma chi se ne frega, cioè alla fine chi se ne frega, la stanno facendo andare avanti la baracca, e fatelo andare avanti la baracca. I stipendi si pagano, si pagano, i giocatori si pagano, tutto quello che c'è da pagare si pagano, se dopo c'è il bond, il non bond, chi se ne frega, l'importante è vincere. E secondo me continueremo. Addirittura stiamo trasformando, vi parlo del tifo interista, stiamo trasformando un momento abbastanza delicato, come il possibile o immaginabile passaggio da Zanga o K3, lo stiamo trasformando quasi in una vittoria, quasi in una cosa buona, una cosa che arriva e che magari farà ancora un salto di qualità all'Inter. Perché se tutto viene dato in mano effettivamente a Marotta, a livello sportivo, rimane Antonello, rimane Baccini, rimane Auxilio, rimane Zanetti, ma non vuol dire voi cosa cambia? Cambia che ci sarà un'attenzione a non fare nuovi debiti, probabilmente, però lì l'austerity, ma l'austerity già c'era, noi stiamo vincendo già sotto austerity. Quindi se c'è l'austerity e magari un domani l'Inter viene venduta a qualcuno che veramente quei soldi ce li ha, quindi qualcuno proprio economicamente pesante, a me va bene, a me va benissimo, va bene tutto. Il fondo, fondamentalmente, o K3 ha tutto l'interesse di mantenere alta la situazione, l'asticelle, il valore dell'Inter. Questo è quello che ci diciamo noi. È chiaro che se dopo due, tre, quattro settimane, tre mesi, quattro mesi, si parla di smontare tutto, i discorsi cambieranno. Ma non penso, io non penso ci sarà una situazione del genere. Tutto sembra, da quello che si vede, tutto sembra che sia, non dico rose e fiori, però forse è ancora meglio, è ancora con spalle più larghe. E dopo ci sono due o tre elementi da non dimenticare. Un elemento sono gli sponsor. Ora, o K3 qualcosa di suo ce lo metterà sicuramente. Adesso l'Inter, diciamo, ma gestisco io o i miei canali, vediamo se qualche sponsor arriva da quelle parti là. Perché l'idea quella primordiale, che poi all'inizio, quando si era parlato di Suning cinesi che compravano, si parlava di questi sponsor asiatici che sarebbero potuti venire, che però fondamentalmente dopo gli sponsor sono stati quelli che conosciamo. Ci sono stati anche problemi con gli sponsor. Gli sponsor è un qualcosa, anche il brand, è un qualcosa che secondo me gli americani, oltretutto californiani, sono capaci. Sono capaci in questo. Credo che O3 sia californiana, credo, comunque americana sicuramente. Detto questo, c'è lo stadio. Lo stadio è l'altra situazione. Vediamo come si muoveranno, ma lì è più una questione nostra, italiana. È più una questione di lentezza che abbiamo noi. Però vediamo se lo stadio, ci può essere anche lo stadio, sottotrotto a far diventare ancora più forte l'Inter. E poi c'è quello che interessa a noi tifosi, a tutti noi tifosi, è il campo. La squadra, l'Inter, già ce l'ha. E ho visto proprio oggi che le scadenze ne ha molte nel 2027, quindi non è che proprio ha bisogno davvero, davvero di far firmare qualcuno. Sono pochi i nomi a cui stare davvero a prestare attenzione. L'unica seccatura, grandissima seccatura, sono questi 20-30 giorni di cui si parla, che c'è l'eventuale passaggio, perché è tutto eventuale. Chiaramente non sappiamo nulla fino a pomeriggio, quando ci sarà l'ufficialità. Però ecco, questo passaggio, via di mezzo, bisogna stare fermi. Però l'Inter già si era mossa. Già Zelischi, Taremi si era mossa già prima. Quindi anche stare fermo un po', pensi un po' a quelle, mandi avanti le trattative, solo che non puoi firmare. Però le mandi avanti le trattative è un rallentamento, quello sicuramente. Eventuale, eventuale. A meno che Zang non si riesce con i soldi, dice vabbè. Ma non lo so come finirà questa storia. Però, come ho detto all'inizio, tutto sommato vedo, ho visto i giuventini milanisti stare lì, avete visto cosa è successo, avete visto un sacco, però alla fine noi siamo spalle larghe, non vedo da parte degli interisti chissà quale grande problema. Cioè, passiamo da una società e da una proprietà all'altra, ormai ci siamo abituati, ormai ci siamo abituati. Io ho fatto i tempi di Pellegrini, di Moratti, cioè di mio, di mio mi ricordo, Pellegrini, Moratti, dopodiché c'è stato Toirre, dopodiché c'è stato Zang. E se adesso arriva questa situazione ci sarò qui. Sempre l'Inter, alla fine siamo noi, siamo i tifosi. La maglia, la storia, tutto quello che volete, però alla fine sono i tifosi. Fin quando ci saranno i tifosi, andiamo bene così, si camminerà così. E il Milan è lo stesso, solo che il Milan, che ha fatto un parallelo, perché c'è la Berlusconi, dopo Jongoli, dopo l'escussione con Elliot. Ecco, con Elliot il Milan ha avuto, secondo me, l'Inter ha un vantaggio piccolo, però ce l'ha, che già ha l'esperienza del Milan. Questo vale, perché l'esperienza del Milan. Il Milan è stato l'esempio lì, i milanisti con Elliot, cioè alla fine ha portato uno scudetto Elliot. Il Milan è in semifinale Champions League, hai detto poco, comunque presenza fissa nella Champions League, hai detto poco. Gli mancano gli orpelli, le vittorie in Coppa Italia, queste cose qua, però tutto sommato. Dopo c'è stato Redbird. Ora, Redbird non si capisce bene, è vero, almeno io non capisco bene com'è la situazione. C'è l'allenatore da non prendere e prendere, però sono fatti del Milan. Anche lì c'è una questione societaria. Devono prendere l'allenatore, secondo me potevano fare un po' prima, ma tutto sommato anche lì la situazione è tranquilla. Ho visto che i tifosi non sono tanto contenti. Ecco, gli interisti si stanno comportando in maniera molto diversa. Perché? Perché crediamo molto comunque nella dirigenza. Il vero punto forte dell'Inter, della dirigenza, Ausilio, Marotta, ovviamente Marotta, lo stesso Antonello. Sono un gruppo, sono un gruppo, lavorano bene, hanno lavorato bene, si trovano bene. Ora, se Oc3, siccome Oc3 ha avuto gli occhi aperti anche sull'Inter, perché dice, perché sono businessman, sono uomini d'affari? Dice, ma perché devo andare a smuovere qualcosa che sta funzionando? Io me la faccio funzionare. Dopo, anzi, se prende ancora più vittorie, più valore, meglio per me. Tutto meglio per me. Perché devo andare a devalorizzare qualcosa che adesso gestisco io? Ma quando mai? Ma assolutamente. Andiamo lì. Certo, non compreranno Mbappé, Bellingham, ma qua apro un altro discorso. Ma come fa il Real Madrid a comprare sempre tutti questi giocatori? Come fa il Real Madrid a comprare? Dopo questi volevano pure la Superlega perché non c'erano soldi. Cioè, alla fine compreranno sempre solo loro. Certo, il Real Madrid in tutto il mondo è una delle squadre più famose, delle due o tre squadre più famose. Sanno gestire bene la società, perché quello è sicuro. Anche il Manchester United è una delle più famose, spende tanto. Ma il Real Madrid è più forte, molto più forte. Lo stesso vale per il Chelsea. Sanno fare il loro lavoro. Sanno fare il loro lavoro. Però, visto dagli occhi nostri, dagli occhi italiani, Inter, Juventus e Milan, in parte Roma, Napoli, insomma. Vabbè, Inter, Juventus e Milan dovrebbero essere a quei livelli. Non ci riescono ad essere a quei livelli. O meglio, ci stiamo avvicinando piano piano come calcio italiano. E stiamo facendo il calcio con quello che possiamo fare, ecco. E questa è forse la cosa fondamentale per l'Inter e per gli interisti. Alla fine faremo calcio con quello che abbiamo in mano. Come quello, diciamo, oggi ti faccio mangiare bene. Qualsiasi cosa ci sia, ti faccio mangiare allo stesso bene. Puoi avere l'aragosta o puoi avere il pollo, comunque mangi bene. Ecco, questa è l'idea che ci siamo fatti un po' interi, noi interisti. Oc3, benvenuto Oc3, andiamo avanti. Ciao a tutti, questo è il canale YouTube calcio più bello d'Italia, d'Europa e del mondo. Ciao a tutti, ciao ciao.